Come ci fai Jacopi? No, no, non è aria, oggi non è aria. Siamo venuti, dove siamo venuti? Siamo venuti alla Meros e siamo venuti a chiedere quello... no, l'anno scorso era diverso chiedevamo... chiedevamo ai giocatori. La console world. Quest'anno a palo facciamo? Eh, più o meno. Più o meno, però chiediamo se questa Xbox che viene venduta a 399 cambia qualcosa oppure no. Oppure no, oppure no. Cosa abbiamo trovato per adesso a Meros? Tanta topa. Sì, sì, tante belle donne, ma... e senti una cosa, ma da quello che hai... a parte uno che ci raccontava dei cazzi degli amici suoi, però l'intervista proprio la voleva fare, ma una cosa, secondo te, da quello che vedi qui in giro, il reggiseno è ancora uno strumento che va di moda, cioè... Ma secondo me è poco usato. Poco usato, da quello che vediamo noi. Non piace. Non piace. Potremmo fare... ecco, potremmo fare... potremmo fare un'intervista su questo. Potremmo chiedere, se invece dei videogiochi chiedi, ma il reggiseno quando hai smesso di usarlo e perché? Ah, guarda, un'intervista di successo. Attivo. Cioè, andiamo a pescare, c'era un palazzo con un balottelli su qua, eh? Eh, vabbè, andiamo a riprendere adesso. Vabbè, facciamo che andiamo a chiedere là. Lui corre, sarà un videogiociocatore o no? Guarda come scappa con lui. Vabbè, andiamo? Sì. Andiamo a far sapere in merda ciò.